Ti sei mai chiesto che cosa combinano con le persone che si allenano per un'ora e mezza o due in palestra? Beh, del sicuro non si staranno allenando in maniera corretta, ti assicuro, e la maggior parte del tempo passeranno a bruccolare. A parte gli scherzi, un buon allenamento deve avere il giusto equilibrio tra durata e intensità. Ti assicuro che un allenamento svolto in maniera molto intensa, dopo 35-40 minuti, le tue fibre buscolari saranno KO. Per quanto riguarda la frequenza settimanale, mi sento di consigliarti tre volte alla settimana. In questo modo iniziamo ad avere un giusto equilibrio tra lavoro e riposo. Il tuo allenamento deve essere ben distribuito perché il sovralenamento è dietro l'angolo. Ad ogni modo, per capire se per te è meglio allenarti due o tre volte alla settimana, il consiglio migliore sarà quello di affidarsi sempre a persone competenti. Ad esempio, se dopo un'analisi completa si riscontra uno squilibrio muscolare, i primi mezzi dovranno essere dedicati a riequilibrare la tua muscolatura per poi, dopo, tonificare il tutto. Per avere maggiori informazioni, contattaci sempre e visualizza il nostro sito www.letsmoversd.com Per avere maggiori informazioni, contattaci sempre e visualizza il nostro sito www.letsmoversd.com